La Biblioteca della Parrocchia San Giovanni Battista di Acqua Formosa La Biblioteca della Parrocchia San Giovanni Battista di Acqua Formosa è stata fondata negli anni 70 del XX secolo da Papas Vincenzo Matrangolo, parroco di Acqua Formosa. Nella Biblioteca sono conservati libri di teologia, storia della Chiesa, filosofia e spiritualità. Oltre ai libri del suo fondatore vi sono custoditi libri appartenuti a Papas Giuseppe Ferrari, teologo e studioso di diritto canonico di cultura al Bresce, già docente di lingua e cultura albanese all'Università di Bari. L'insieme dei due fondi librari fanno sì che questa biblioteca, altamente specialistica, sia particolarmente interessante per studiosi della Chiesa d'Oriente e della minoranza linguistica degli albanesi d'Italia.